Benvenuti su Alleluia Discounter amici verniciatori Abbiamo visto quindi come con questa macchina qui Abbiamo spruzzato prima la mano di fondo Andiamo a vedere invece adesso come con la stessa macchina Possiamo spruzzare la vernice Questo materiale qui che abbiamo Store Color Rapid Ultramat E andiamo a vedere quindi che tipo di risultato otteniamo con la stessa macchina Andiamo a vedere Andiamo a vedere quindi 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 Andiamo a vedere 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 Andiamo a vedere